Via al grand tour dei saldi, ma mentre l'andamento degli acquisti registrato a fine anno in Bari tracciava un bilancio favorevole delle vendite natalizie, il periodo saldi lascia incertezze. Questo weekend è andato molto bene, c'è tanta gente in giro, per fortuna il tempo, quest'ultimo weekend ci ha molto aiutato e siamo fiduciosi che continuerà ancora così. Abbiamo avuto un ottimo riscontro sin dal primo giorno, i nostri clienti non aspettavano altro e oggi facciamo anche orario continuato. Stiamo acquistando in questo periodo e quindi stiamo vedendo di comprare le cose migliori a buon prezzo. Acquisterai durante questo periodo di saldi? No, non ho proprio il programma di acquistare in questo periodo di saldi. Penso sicuramente dell'abbigliamento, andrò su delle scarpe, vestiti normali insomma. Quindi li stai aspettando oppure hai acquistato prima di questo momento? Allora ho approfittato in realtà del Black Friday quando è stato, quindi comunque sempre saldi e adesso che ci sono di nuovi saldi insomma ne approfitterò nuovamente per comprare altro. Bene, molto bene, benissimo rispetto agli altri anni, è partita la grande. Questo weekend di saldi come sta andando? Allora è partito bene rispetto agli altri anni, fortunatamente si sta vedendo un flusso fortunatamente diverso in maniera positiva e quindi siamo molto felici e siamo carichi e speranzosi che continui e che non cessi adesso insomma, stiamo iniziando e siamo belli carichi.